Dieci condanne per altrettanti dirigenti e personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro che dovranno risarcire un danno erariale complessivo di poco più di 239 mila euro e quanto ha stabilito la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato gli imputati per dei presunti illeciti nella gestione dell'Azienda Sanitaria Provinciale del capoluogo dei fondi europei stanziati per il progetto Stop & Go. Tra questi Giuseppe Romano, all'epoca dei fatti direttore del Servizio Informativo, Francesco Francavilla, direttore dell'Unità Operativa Gestione Risorse Economiche entrambi dovranno pagare rispettivamente oltre 68 mila e più di 13 mila euro per attribuzioni intrastipendiali, più alti 37 mila per la ripartizione interna del 30% a carico di Romano e del 15% per il Francavilla. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza sono scattate a seguito di una denuncia presentata proprio dai vertici dell'Azienda Sanitaria Provinciale. I fondi intercettati avrebbero dovuto portare un modello di gara d'appalto armonizzato da adottare a livello europeo in materia di servizi per anziani, potenziati dalle tecnologie digitali e finalizzati all'attuazione di modelli assistenziali innovativi, ma secondo gli inquirenti il progetto non è stato realizzato e l'unica attività posta in essere consiste nella pubblicazione sul sito dell'ASP di una consultazione di mercato finalizzata alla predisposizione degli atti di gara relativi all'acquisizione di servizi avanzati per l'anziano, potenziati da tecnologie digitali presso la Casa della Salute di Chiaravalle. Ecco perché la Procura della Corte dei Conti contesta l'effettività delle prestazioni rese dal personale in forza all'ASP, nonché l'entità delle relative liquidazioni, l'appropriatezza delle spese di missione rendicontate da Romano e liquidate da Francavilla, la liceità delle corrispensioni liquidate nei confronti di terzi soggetti per l'iniziativa in argomento.